Ciao amici, buongiorno, che bella giornata! Guardate qui la settimana come è andata tutto verde e queste sono le settimane migliori che mi piacerebbe vedere costantemente nel settore delle criptovalute. Ciao, sono Stefano Campanelli, conosciuto come il Marchese del Crypto. Se non mi conosci, iscrivete al canale, attiva la campanella. Perdonatemi oggi un pochino la voce, ma sono leggermente raffreddato. Ma per quanto riguarda il nostro amico Bitcoin, le principali altcoin, come stanno andando? Come andranno da adesso in avanti? Bene, questo ce lo diranno direttamente i grafici e allo stesso tempo, ragazzi, se trovate utile di questi contenuti, fatemelo capire lasciandomi un bel like. Prima carrellata di notizie, vediamo se sono notizie davvero interessanti che possono riguardare l'andamento dei prezzi di Bitcoin delle nostre altcoin. Parleremo anche di una altcoin che secondo me potrebbe essere interessante. Allora, cominciamo a vedere innanzitutto, in questo caso, Katie Boone, il CEO di ARK Invest, che dice, secondo lei, asserisce che un portafoglio ideale per gli investimenti debba tenere circa un 20% di Bitcoin. Questa è l'allocazione per il 2023-2024, visto che il 2023 già è trascorso. Secondo lei, visto che c'è una bassa correlazione quinquennale di Bitcoin pari a 0,27, scusate, con gli asset tradizionali, sottolinea i suoi vantaggi in termini di diversificazione. Quindi, alla fine di avere un portafoglio diversificato, lei suggerisce di avere questo 20% di Bitcoin, il che potrebbe essere davvero interessante. Poi che sia Bitcoin, che sia direttamente un ETF spot su Bitcoin, come probabilmente lei intende, in ogni caso cambia poco. Poi, cambia tanto, ma vabbè, sappiamo noi insomma quali sono le differenze per gli esterni, fondamentalmente cambia poco. Bitcoin sfida i magnifici sette giganti del settore tecnologico. Si parla di Amazon, Tesla, Microsoft, Media, Nvidia, Apple e Google. In pratica questo grafico ci mostra l'andamento in blu, sono questi sette giganti, diciamo la media di prezzo di questi sette giganti. Per quanto riguarda invece l'allia raccione, è invece il prezzo di Bitcoin. Come vediamo, orientativamente la percentuale di gain è stata similare, ma allo stesso tempo mi sento di dire che, quando si fosse optato per un piano di accumulo, Bitcoin sarebbe andato meglio, perché il piano di accumulo funziona bene nei momenti di ribasso, quando si accumula durante le fasi di down. Quindi, quando si fosse optato per un piano di accumulo, probabilmente Bitcoin sarebbe fatto guadagnare di più, sebbene la percentuale di profitto in questo momento sia più o meno identica. Assieme adesso a una notizia super bullish per quanto riguarda Bitcoin, le grandi whale hanno iniziato a fare withdraw di grandi quantitativi di Bitcoin dagli exchange, in questo caso da BitMEX. Che cosa significa? Significa che sicuramente quando le balene fanno outflow, quando ci sono diversi outflow, quando le balene quindi ritirano dagli exchange verso i wallet, probabilmente per detenere. La riduzione dei Bitcoin sugli exchange, naturalmente fa sì che in caso di spostamento di prezzo, in caso di acquisto, il prezzo possa salire in maniera molto importante, perché ci sono meno Bitcoin. È anche vero l'opposto, però solitamente questi movimenti servono per detenere, cioè uno solitamente quando vende li mette sull'exchange, quando deve detenere li porta in wallet esterni. Allo stesso tempo gli ETF stanno iniziando ad andare bene, infatti stanno accumulando, Grayscale ogni tanto sposta Bitcoin sugli exchange, ogni tanto quindi fa da pari il prezzo. Per io che faccio trading, in questo momento trovo un pochino una operatività difficile, perché fondamentalmente si sale e si scende tanto, quindi probabilmente bisognerebbe in questo momento allargare un po' più gli orizzonti temporali. In ogni caso, anche perché non rispetta per nulla, diciamo supporti e resistenze. Ma adesso, tanto lo vediamo nei grafici, e andiamo a vedere quindi i grafici Bitcoin e principali altcoin. Volevo parlarvi invece di quest'altra criptovaluta, in questo caso Zeta. Quest'articolo è di un pochino di ieri probabilmente, che dice che Zeta è volata di oltre il 60%, registrando il suo massimo storico. Alla Zeta è stata listata, Zeta Chain, una nuova criptovaluta, relativamente parlando rispetto a una nuova blockchain, dovrebbe essere, diciamo, similare a Torchain, che però è stata hackerata, e P-Network, quindi in pratica è una blockchain multichain, se così vogliamo dire, ma allo stesso tempo, in questo caso qui, memore rispetto a quello che è avvenuto su Torchain e P-Network, stanno cercando di fare le cose passo passo, quindi al fine di evitare eventuali problematiche che si sono verificate sulle altre blockchain. E' uscita anche un'integrazione già direttamente sulla Binance Smart Chain, il token è stato listato da poco sui principali exchange, e pare sia andato davvero, davvero bene. Quindi dategli magari un occhio, vedete voi quanto, qui dice, ve ne scambiate a 0,91, in realtà in questo momento sta già a 1,72, a 2,73 circa, quindi vedete voi, se può essere interessante o meno, fate le vostre ricerche, approfondite, la market cap in questo momento non è altissima, naturalmente ragazzi, bisogna approfondire, bisogna seguire, bisogna vedere quindi, se uno ritiene opportuno, o meno, fare un investimento, su questa criptovaluta. Benissimo ragazzi, passiamo a vedere i grafici di Bitcoin, e delle nostre altcoin. Andiamo a vedere i Ethereum, come siamo messi con ETH, 2313 dollari, bene ragazzi, in questo caso abbiamo, questa zona del 2002, ci ha fatto da supporto, abbiamo questa zona di resistenza, che arriva fino al 2004, quindi è importante mantenere, cioè o meglio, è sempre importante superare questa zona, ma questa è tutta una zona di accumulo, e in ogni caso, comunque sia, non è un movimento assolutamente malvagio per i Ethereum, però guardate ragazzi, da quanto tempo siamo in questa situazione. Probabilmente l'eventuale notizia sull'ETF, su Ethereum, potrebbe fare da catalizzatore. Per quanto riguarda Cardano, ragazzi, vediamo un attimino, Cardano sta anticipando la move, di quello che potrebbe fare Polkadot, quindi ha rotto a rialzo questa trendline, qui abbiamo toccato questa zona di resistenza, siamo stati respinti, e ora stiamo provando a risalire. Questo è il movimento che mi sarei aspettato, in effetti il retest non c'è stato, per lo meno per il momento, e siamo subito ripartiti. C'è una bella differenza, se facciamo un meno il retest, perché se dovessimo fare il retest, a questo punto sarebbe qua giù, mentre invece, non facendo il retest, è andato subito ad aggadire questa zona, potrebbero vedere direttamente Cardano, raggiungere il 0.56. Allora, EGLD, EGLD, come siamo messi su EGLD? Beh ragazzi, esattamente allo stesso identico modo, più o meno delle altre, questa è tutta una zona di resistenza, la guardiamo qui ragazzi, questa dei 57, 58 dollari, ho fatto un po' storta sta linea, ad ogni modo, per quanto riguarda EGLD, anche qui, non abbiamo ancora rilestato, ma sapete bene, che tutte queste criptovalute, sono legate all'andamento di Bitcoin, quindi stanno seguendo un po' le fasi altaneranti di Bitcoin, che poi dopo andremo a vedere. Ragazzi, udite udite udite, in questo caso per Shiba Inu, che sia la volta buona, guardate qui, abbiamo rotto al rialzo, questa trend line, l'abbiamo ritestata, ragazzi, qui si potrebbe ripartire, questa potrebbe essere una buona zona, per ripartire per Shiba Inu, questa è una volta di resistenza, quindi salvo che, ritestiamo ancora, ma non se ne può più, ragazzi, quindi penso che a questo punto, potremmo tranquillamente, tentare un nuovo assalto, ma se riusciamo a romperla, se non altro, possiamo arrivare a questi, 0, tanti zeri, 9, 5, 6, e se dovessimo farcela ancora, ritornare a questi, tanti zeri, 10. CRO, CRO ragazzi, io vi dico la verità, ve lo dico alla romana, alla romana, come si dice alla romana, beh CRO me ha stancato, perché CRO ragazzi, è una cripto, che è statica, è una cripto statica, poi magari esploderà, poi a un certo punto, arriva al punto che dice, ok, ma se non mi sono stufato, me la tolgo, e poi a un certo punto esplode, e questo naturalmente è vero, è una cripto che ragazzi, guardate qua, cioè guardate che movimenti che fa, scende se bitcoin scende, se bitcoin sale, sale poco, non lo so ragazzi, CRO probabilmente, non so, ma adesso, è un po' un momento un po' particolare, per tutto il settore delle criptovalute, se vediamo, vanno bene i progetti appena listati, la maggior parte dei progetti appena listati, del blockchain fondamentalmente, tutti gli altri, sono un po' altalenanti, fanno bene i progetti, che non stanno seguendo tantissimo bitcoin, e gli altri sono un po' così e così, vediamo invece un attimino Solana, come sta andando, cerchiamo di capire un attimino Solana, Solana anche qui stesso discorso, il retest ancora non c'è stato, non so se sia bene a questo punto, perché se ci dovesse essere un retest, avrete in zona molto più bassa, questa è una zona di resistenza dei 102, e qui se non ce la fa superare, ragazzi torna giù Solana, questa è una cosa, è una zona molto molto importante, questa qua, e qua qua, me la metto qua, quindi questa qua dei 100, cioè fino a 105, perché poi la spike può anche salire, ma diciamo questa è una zona molto importante, perché se non ce la fa qua, riscegliamo a ritestare, se non altro questa, questa trend line, attenzione a Solana, quindi si trova in un punto probabilmente cruciale, in questo momento, benissimo, passiamo a vedere Tia, Tia, la vediamo, va bene, adesso Tia qui, ha rotto, pensavamo che facesse questo di testa, ancora non c'è stato, adesso questa zona sta facendo da resistenza, se la rompiamo, ne andiamo a ritestare, se non ce la facciamo, vediamo, respinti, e quindi potrebbe scendere un pochettino Tia, fino a raggiungere quest'altra zona, dei 14, a questo momento, se non va a 17,26, Avalance, Avalance, vediamo un attimino, Avax, come siamo messi, vabbè ragazzi, qui ho disegnato, e stiamo andando qui, quindi questo era il trend che abbiamo messo, siamo in questo canale, quindi un canale che va dai 35, fino ad arrivare ai 32, che in questo momento, se rompiamo, vediamo gli assorbiti, vedete, sia al basso che dall'alto, tutti questi movimenti, vengono proprio fatti, fondamentalmente perché si segue, l'andamento di Bitcoin, ad ogni modo, queste sono zone di resistenza, la parte sopra, queste sono zone di supporto, e vediamo un attimino, anche quindi l'andamento di Avalance, bene, siamo adesso a vedere, abbiamo promesso, Polygon, quindi vediamo un attimino, Polygon, Batic contro dollaro, vediamo un po' come siamo messi sul grafico daily, allora, anche qui, stesso di antico discorso, per quanto riguarda Polygon, qui abbiamo rotto questa trendline, siamo risaliti, ne abbiamo un'altra qua, vediamo un po' come siamo messi su questa, questa ci può fare, da resistenza, quindi questa zona qui, diciamo di 0.86, questa è una zona di resistenza, per quanto riguarda una zona di supporto, questa è tutta una zona in realtà, che arriva fino qua, ok, vedete che in realtà scende anche sotto, ma comunque se diciamo, questa è dei 0.73, 75 dollari, e qui adesso invece è una zona di resistenza, che cosa mi aspetto? Beh ragazzi, allora qui abbiamo rotto al rialzo, quindi potremmo tranquillamente andare a ritestare questa zona, come detto, quindi 85, 0.85, 0.86, e poi vedere come si comporterà, sicuramente l'ipotesi quella là, è più probabile che magari che prima riscenda, per prendere forza, e naturalmente prima di provare, tentare l'assalto per la rottura, o magari addirittura stringerci, per poi dopo provare l'assalto successivamente, quindi tutto riprenderà da Bitcoin, in ogni caso, non grande move di prezzo, da parte di Polygon, Matic, cioè vedete quanto tempo siamo qui, se io ve l'allargo, vedete qua ragazzi, stiamo sempre qui, non è che abbiamo fatto grandissime cose, da novembre del 2023, insomma che siamo arrivati qua, e qua siamo rimasti, che sembra chissà quanto tempo era, in realtà sono passati tre mesi, però nelle crypto sapete come funziona, allora, vediamo adesso Bitcoin, questo è il grafico settimanale, vieni a vedere il giornaliero, vieni a far vedere il settimanale, perché il settimanale è molto indicativo, ragazzi, è molto indicativo, perché mi è piaciuta tantissimo, tantissimo questa candela ragazzi, questa candela, è una candela molto molto bullish, guardate qui era sceso, abbiamo avuto tantissima forza, vedete questo ascedo, e quindi ha portato su la candela, ora adesso come ci troviamo ragazzi, ora qui ci troviamo in questa zona, in questa zona, che è una zona fondamentalmente cruciale, quindi che arriva fino ai 43, eccola qua, fino ai 43 e 9, 44 mila dollari, eccola qua, vi diciamo tutta questa zona, eccola qui, ma non l'ho disegnata, eccoci qua, ok, e questa è una zona di resistenza, e questa è una zona di supporto, questo parliamo del settimanale, quindi è molto molto importante, visto l'andamento, potremmo fare questo, questo, e magari riprovare a rifare un nuovo assalto, a questi 44 mila dollari, è comunque sia importante, vedere la chiusura della settimana, ma probabilmente vedete, siccome è così, magari forse un altro paio di settimane, ancora, prima di capire, la direzionalità che avrà a Bitcoin, se noi adesso andiamo a vedere invece il grafico giornaliero, no, ecco questa è la nominance, la vediamo dopo, se andiamo a vedere il grafico giornaliero di Bitcoin, in bandaccia la miseria, un giorno, eccolo qua, come vediamo ragazzi, qui ci troviamo in questa zona, che è una zona di resistenza, barra supporto a seconda del momento, in questo momento ci sta facendo da resistenza, questa è una zona di supporto, quindi abbiamo la resistenza a questi 43 mila dollari, una zona di supporto a questi 41 mila dollari, ora stiamo tentando 1, 2, 3, 4 volte a romperla, in questo caso invece, il problema qual è? è quello che è, e questa candela di ieri è stata bellissima, perché abbiamo avuto questo impulso di alzista, quest'altra candela è un po' bello, e ci troviamo a dover lottare, quindi è importantissimo capire la direzionalità, perché sarebbe davvero fantastico riuscire a recuperare questa zona dei 44 mila dollari, comunque questa è una zona di combattimento ragazzi, vedete? Quindi magari potremmo anche stare qui per diverso tempo, magari, un periodo di indecisione di dove le persone comprano, acquistano e via dicendo. Per quanto riguarda il week off, che se conoscete, sapete che l'avevamo già visto, eccolo qua, questo era il week off, che cosa è successo ragazzi? Benissimo, il più classico dell'andamento, siamo stati respinti, perché questo è un pattern di inversione. Allora, la dimensione della spinta al rimbasso, dipende fondamentalmente da diversi fattori, tra i quali il volume, la durata del week, del pattern, e così via. In questo momento, probabilmente questa è stata la spinta maggiore, che abbiamo ricevuto, quindi questo pattern, sembrerebbe concluso qui, intorno ai 38.400, e quindi qui adesso abbiamo avuto, stiamo andando a cercare di costruire un nuovo pattern. Vediamo quindi, è importante capire l'andamento, anche di questi prossimi giorni ragazzi, è complicato in questo momento prevedere, perché vedete, stiamoci tentando di spingere, ma ancora non rompiamo. Se rompiamo ragazzi, possiamo vedere tanta e tanta forza su bitcoin, ma a questo momento gli istituzionali, stanno facendo il loro gioco, quindi stanno prendendo liquidità, a destra e a sinistra. Vediamo adesso, in questo caso, la total market cap delle crypto, quindi quanti soldi sono all'interno del settore delle crypto, stanno tentativamente, seguendo l'andamento che sta avendo bitcoin, quindi questa è una zona di resistenza, qui c'è una zona di resistenza, e quindi potremmo ancora, anche in questo momento, galleggiare qua, per quanto riguarda la total market cap delle crypto, in questo momento quindi è poco indicativa. La total 3 invece, qua ci dice che cosa è meglio, se le altcoin a media capitalizzazione, oppure altri lidi, puliamo un po' il grafico, perché non ci capisce nulla. Bene ragazzi, in questo momento, vedete, questa era una thread line, che stiamo seguendo, ok, che ancora non abbiamo rotto, vedete, tatatatatatata, e quindi qui ci spinge verso il basso, quindi, se non ce la facciamo, in questo caso qua, a rompere, significa discesa, il che significa, al coin a media capitalizzazione, vanno male, ok, quindi, se invece dovessimo rompere al rialzo, e la sarebbe tutta un'altra storia, ma in questo momento, ragazzi, vedete, quindi dovete controllare questo grafico, la total 3, la total 3 è molto indicativa, se questo rompe al rialzo, magari ritesta e riparte, allora significa che le altcoin, media capitalizzazione, vanno come trading, sennò altrimenti, come vi dicevo in questo momento, stanno andando queste criptovalute, le uscite, escono, pompano, poi a un certo punto, crollano, questo è quello che sta capitando in questo momento, bene ragazzi, se avete apprezzato il video, lasciatevi un bel like, iscrivetevi al canale, e attivate la campanella, ci vediamo al prossimo, del Marchese per Crypto, ciao e buona giornata.